Hanno violato la legge di contabilità, lo statuto, il regolamento, hanno approvato nottetempo quattro leggi saltando ogni discussione, violando ogni norma di procedura, hanno distribuito in un modo discriminatorio e vergognoso le poche risorse disponibili, quindi sciupando un'opportunità, una grande opportunità, quella di cogliere i frutti del risanamento finanziario di questi anni che consentivano di finanziare politiche, come noi abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti, pochi di essi sono stati accolti ma molto qualificanti. La maggioranza non ha idea di cosa ha combinato in quel suc che ha animato, alimentato alcuni emendamenti utili, importanti ci sono, sono per lo più frutto delle iniziative delle opposizioni come quelle che finanziano l'assistenza alle famiglie dei disabili, come gli interventi che noi abbiamo promosso sulle piccole opere nei comuni, frutto non della spartizione clientelare ma di graduatorie, di trasparenza, una manovra senza ispirazione, senza una visione, senza finalità, senza criterio, frutto di un conflitto politico e di un fallimento politico sempre più evidenti.